Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Tana degli Scacchi, signori, partita clamorosa al Title Tuesday del 31 gennaio, dove Neiman sconfigge Nakamura in una partita assurda, clamorosa, dinosaurica. Nakamura che è stato ipnotizzato da Neiman perché commetterà un blunder ciclopico, signora. Prima di incominciare, mi raccomando, like ed iscrizione. Bene, Neiman non solo batte Nakamura, ma vince il Title Tuesday, raggiungendo un punteggio elo di 3230 punti elo online. È il terzo giocatore con elo più alto su chess.com. non è possibile, dal vivo, Tentenna ultimamente, al Tata Steel Challenge, all'autometta classifica, ormai ha un punteggio elo che si aggira intorno ai 2650, online ti fai 3200-3200. Neiman è sempre stato intorno ai 2009, fino a un mese fa aveva regnato 300 punti elo, questo gioca 200 partite al giorno. Incredibile, signora. Comunque, online Neiman dà il suo meglio. Dà il suo meglio. Dopo aver pattato con Magnus Carlsen in una partita preconfezionata, ripeto, preconfezionata, perché hanno giocato la variante della berlinese che porta a una patta teorica, quindi non c'è stato un vero incontro. Si sono messi d'accordo. Si sono messi d'accordo per fare patta. Poi tutta sta storia che si sono bloccati le strutture pedonali, poi il re non riusciva a passare. dai vi, tutta scena, tutta scena. Neiman, ho paura che lui stia recitando. Non è, secondo me, veritiero quello che dice. Prima quando dice dai vinci, dai vinci, è tutto organizzato per fare hype. Ormai Neiman è entrato nella scuderia. Dei Carson, dei Nakamura, di Gotan chess, ok? Perché? Quando ha firmato l'accordo noi ti riammettiamo. Però diventi uno dei nostri alla fine. Ok? Bene. Nakamura con pezzi bianchi. Neiman con i pezzi neri. E4, di Nakamura, C6, una Karokan. Ultimamente sta giocando la Karokan Neiman. Cavolo in C3, variante secondaria, ok? o vuole installare un attacco dei due cavalli, oppure giocare il Goldman, ok? Con Don F3. Quella che gioco io. Super Speed gioca a cavallo F3. Io gioco Don F3. Vediamo Nakamura. Dopo di 5, cavallo F3. La variante, diciamo, che va di moda oggi. Neiman, chiedo al cavallo. Dopo H3. Sberluc dà via la coppia. Credo che qui sia tutta teoria, praticamente. Infatti, E6. Si crea una forte struttura pedonale. Non essendoci più il vescovo delle case chiare, chiaramente il vescovo delle case scure è molto buono. Vediamo. G3. Nakamura non va per sviluppi, diciamo standard. G3. Vuole cambiare un po' le carte in tavola. Cavallo D7. Mossa di sviluppo. Donna E2. Nakamura vuole giocare un impianto simile all'attacco indiano, probabilmente. Vorrà rientrare. Però qui Neiman non lo fa rientrare, signori. D4. Li punta a ruolo. Il cavallo dove ho? Deve tornare per forza in D1. Nakamura, infatti, gioca a cavallo D1. E qui H5 all'alfa zero. All'alfa zero, Neiman! Incredibile! H5, tutta preparazione qua. H4. Nakamura non vuole far spingere ulteriormente il pedoncello. E5. Neiman blocca al centro, ma questo è uno schema della Carrocan che non ho mai visto. Vescovo in H3. Forse Nakamura vorrà togliere questo forte cavallo. Perché questo è un cavallo importante, generalmente, nella Carrocan. Però non si sa mai. Adesso Neiman, però, potrebbe giocare anche cavallo F6, tra le altre cose. Se ne frega. Sviluppa il Vescovo. E qui Nakamura, credo che a Roccare a corto, oppure giocherà una mossa come C3 per rompere il centro. A Roccare a corto, credo sia possibile. Ma vediamo. Gioca a D3. Vuole dare fiato alla coppia di Vescovo. Bene. Vediamo Neiman. Neiman sviluppa l'altro cavallo. Ok. Cavallo E7. C3. Rottura del centro. Neiman fa C5. Ovviamente è così. Quando Nakamura sberlucca, lui sberlucca. Oppure potrebbe addirittura sberluccare con questo pedone, creando qualcosa di apocalittico sulla scacchiera. Perché potrebbe arrivare F4, E5. Non credo che prenderà col pedone E. Prenderà col pedone C. Ma vediamo se Nakamura sberlucca. No, non sberlucca Rocca a corto. Come pensavo io? A Rocca a corto. Cavallo C6. C4. Nakamura blocca il centro. Blocca il centro perché vuole giocare tutto sull'ala di re. Vorrà fare F4 prima o poi. Attenzione. Neiman qui non può a Roccare a corto. Assolutamente no. Donna E7. Si prepara per la Rocca probabilmente. A3. A3 è una mossa dell'intermezzo per impedire un eventuale cavallo B4. Potrebbe dare un po' di fastidi. Potrebbe. Ma niente di che. Quindi Iman A5. Dall'altra parte. Attacco sulle ali. proprio da motore. Proprio da motore. Proprio da motore. Narocca. B3. Nakamura sta anche lui aspettando al varco. G6. Gioca solo con i pedoni. Le case scure sono debole. Le case schiure sono debole e Nakamura ne approfitta subito. Vesco di G5. Attacco alla donna. F6. Sposta indietro il Vescovo. E qui una mossa clamorosa da parte di Hans Neiman. Re D8. Re D8. Non ha Rocca lungo. Magari è stato un Mouselip. È possibile. Ha Rocca lungo. È la terza migliore del motore. Che si è ancora in preparazione. F4 è arrivata. Tre a cotante. Nakamura vuole spaccare tutto. E qui Niman ci mette nello sgabuzzino correre. Metterà nello sgabuzzino a Rocco a manovella. Nakamura migliora il cavallo. Trovano i pernigotti sulla colonna. Porta tutti i pezzi sulla latirea adesso. E qui non capisco perché Nakamura non spinga. Ammucchia pezzi pure lui. E Neiman gioca con il re. Come ha fatto con Carson. Però qui siamo in apertura, signori. Gira con il re per la scacchiera. Anche Nakamura dice che io sono capace. Pure io sono capace a muovere il re. Sì? E qui di fino. Di fino si aggiustano i pezzi. Finalmente è arrivato F5. G5. Attenzione contro Sposta. Sberlucco, sberlucco. Quindi Neiman ha due pedoni che potrebbero cercare di insinuarsi contro la Rocco di Nakamura. Nakamura spinge. Non vuole fare avanzare ancora quei pedoni. E qui si fa il pedoncello passato Neiman. Attenzione a questo pedoncello. Attenzione a questo pedoncello che è il segreto della vittoria di Neiman. Toroncino per Miglotti. Vuole aprire sul re, ovviamente. Viscovo in D6 vuole impedire la spinta. Ovviamente con ipercontrolla, con 50 pezzi. La casa B4. Signori. Incredibile. Nakamura prova un Rockleaf. Di nuovo con il re. Neiman gioca solo con il re. Toron e per Miglotti. E anche Neiman. Attenzione. Gioco totalmente pari. Anche Nakamura diceva. Ma guarda che io sono meglio di te a cincischiare con il re. A vederla così mi sembrano partite strane. Sia Nakamura che Karsen hanno scelto questo impianto, praticamente hanno giocato a dama, per bloccare tutto il centro, e poi gigioneggiare con il re. Secondo me l'hanno fatto per il content. E' stata partita content. Però per come andrà a finire, non so fino a quanto sarà content per Nakamura. Qui Nakamura addirittura, vedete, porta i pezzi t'indietro. Quanti pezzi t'indietro. Cavallo in F6. Neiman migliora il cavallo. Anche Nakamura. Adesso qua, pressione sul pedoncello G5. Va bene. Difende il pedone Neiman. Donna. In D1. Manovra su manovra su manovra su manovra. Toron e per Miglotti non lo sgabuzzino. Rockleaf. Rockleaf alla John Graffi non lo sgabuzzino. Sposta il vesco. Risposta il toroncino per Miglotti. Giocano come i motori. Stanno giocando come i motori. Spesso ripetono le mosse. Quando vedono che il loro calcolo orizzonte, la loro visione dell'orizzonte delle variabili, nelle strutture come questa ad esempio, tutto bloccato, non sanno andare avanti in realtà. E allora cosa fanno? Ripetono delle mosse aspettando che il loro orizzonte arrivi ad una linea certa. Ma è strana sta cosa. Guarda, ti blocca ancora Neiman. Cincischio. Cincischio. Anche con la donna. Blocca. Cincischio. Girano i pezzi dietro la catena dei pedoni. Sembra che non approdino niente. Stanno prendendo in giro tutti, signori. Stanno prendendo in giro tutti. Sì. Andate Neiman ancora con Re. Adesso Neiman si decide di spingere. Sberlucco. Nakamura ha perso la pazienza con le strutture bloccate. Sberlucco. E adesso attacca il troncino per Negotti. E lo muove ancora. Qui, manovra, raddoppia Neiman. Spinge il pedoncello. Però le case schiure qui fanno un po' pietà. Potrebbe inserirsi un cavallo. Ma in una di queste case. Attenzione. E ci va il cavallo. Ci va il cavallo. In B4. E attacca il pedoncino. Attacca il pedoncino. Sposta il tronco per Negotti per difendere. Sposta la donna a massima pressione su questo pedone. Ma finché c'è questo vescovo, come lo fai a catturare? No, sposta la donna. Ricentralizza il cavallo. Apparentemente sacrifica un pedone. Quindi Neiman sacrifica un pedone. Adesso la struttura si rompe, però. Ma Nakamura non lo sberlucca. Che partita strana. Guardate che roba. Sembra che vogliono ripetere le mosse, ma stanno continuando a giocare. Secondo me questa è una partita farlocco. Sono partite preconfezionate. Ci sono messi d'accordo. Giochiamo queste linee qua e facciamo un po' di content. Guardate, Neiman ha riportato il re dall'altra parte. Neiman è in versione passeggiatrice, proprio. È incredibile Neiman. Guardate che roba. Sposta il re. Sposta il vescovo. Quanto dura questa partita? 500 mosse? Non si passa. Non si passa. Non si passa. Stanno giocando a Dama. Cioè, Dama, nel senso. Muovono le pedine. Adesso qui Nakamura potrebbe cambiare la struttura sberluccando il cavallo. No. Vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti. Dobbiamo arrivare al punto focale. E continuano. Qui Neiman ha solo 7 secondi. Qui Neiman ha solo 7 secondi. Nella partita con Karsen invece aveva ancora 3 minuti e mezzo. Aveva più tempo di come è partito. Invece qua ci ha pensato. Strano. Appure stanno solo girando sulla scacchiera. E continuano, eh? Stanno prendendo in giro tutti qua. Però secondo me ad un certo punto, ecco, Nakamura qua perde un pedone. Però è un Blunders. E' un sacrificio di pezzo. Un sacrificio di pezzo di Neiman. Cosa combina? Cosa è sta roba? Neiman a un certo punto decide di rompere tutto. Di dare il pezzo per due pedoncioni. Però secondo il motore è sbagliato. Qui Nakamura chiaramente con poco tempo provava anche lui il Rocklet. E' un Mega Blunders. Mega Blunders qui, signore. Perché Mega Blunders? C'è un problema. Che la donna è sospesa. Una mossa come donna H1. In chioda il vescovo e minaccia la spinta. E due pedoni passati. Sono forti come un torno per nigotti. Anche di più. E il vescovo comincerebbe a giocare. E poi anche il cavallo comincerebbe a giocare. Potrebbe entrare dai cinque. Potrebbe fare di tutto Neiman qui. Soprattutto in chiodare il vescovo. Perché Nakamura purtroppo per lui ha tolto il torroncino per nigotti dalla difesa della donna. Qui la mossa corretta è togliere il cavallo. Toglie il cavallo, la donna difende la torre, l'altra torre difende la donna, il cavallo difende tutto e magari può anche infilarsi in B5. Nakamura cade in un trappolazzo. Blunders. Ma Neiman non lo vede. Neiman non lo vede. Non vede la potenza di donna H1 a solo 4 secondi. Comprensibile. Nakamura ci incisca con i torroni per nigotti, ma vedrete che questi torroni per nigotti faranno una brutta fine. Cavallo di 7. Neiman migliora il cavallo. Attacca la donna qui. Nakamura, ma qui è 4. Il punta cuolo. E la gioca Neiman. Traccottante, quei due pedoni valgono una torre. E qui decide di ridare il pezzo perché non sopportava più quei pedoncini. Sberlucco, sberlucco. Sberlucco. Adesso il pedone è solo uno. Sacca la donna. Sberlucco il pedone. È vero che ha sberlucato un po' di pedoni Neiman, però non ha più due pedoni passati affiancati. E qui, attenzione, sacrifizio. Neiman sacrifica la qualità. Neiman sacrifica la qualità. Partita bestiale. Sberlucco. Nakamura vuol cambiare le donne, ovviamente. No. Le donne non te le cambio. Ah sì? Adesso me le cambio perché adesso c'è l'infilata. C'è l'infilata, donatore. Come fai? Come fai? Come fai? Devi cambiare le donne. Certo, le cambio le donne. Cambia le donne con la qualità in meno. Per un pedone in più. Però qui la partita, attenzione, eh. Che cosa succede adesso? Guardate cosa succede. Cavallo c5. Ottima mossa. Vuole spingere il pedone passato. Vuole spingere il pedone passato. Nakamura sposta il vescovo. Tu il pedone magari non lo spingi. Attenzione. Attenzione. Arriva il torne per i gotti. Ah, rinforzare la spenta. Questo pedone vuole andare su Marte, signora. Su Marte. Nakamura spinge dall'altra parte. E qui arriva il momento utopico. Neiman spinge il pedone. Blunders. Qui a Nakamura basterebbe sbarruccare il pedone. Con vantaggio. Il pedone è passato. Qualità in più. Questo. Alla lunga si dovrebbe bloccare. Può addirittura, più che prendere, anche spingere volendo. Dopo il cambio del cavallo magari. Tanto un torne per i gotti lo darà su questo pedone. Non Nakamura. Quando il pedone andrà su, forse non glielo fa neanche andare su, forse può anche sbarruccare subito. Prima sbarruccare il cavallo, che è un difensore. Dopo lo sbarrucamento, sbarrucamento, sbarrucamento. E qua, il pedone potrebbe andare a donna. Comunque anche prendere, va benissimo, no? Ma Nakamura prende prima il cavallo. Il motore non piace tanto. Il gioco paro. D2 vuole andare a donna, Neiman. Ah, c'è il toroncino per nigotti, che blocca. Peccato. Però questo è un blunder ciclopico. Un blunder ciclopico. Perché al posto di giocare la migliore che è Torre F di 1. Torre F di 1. Perché? Adesso vedrete il perché. Perché questa torre sta impedendo, praticamente, la comunicazione su questa diagonale. Ok? Guardate cosa succede adesso. Entrambi faranno donna, ma Neiman minaccia matto per colpa della torre in F3. Che regni una scatola. Invece se giocava, se toglieva la torre, a questo punto qui c'era la casa che comunicava. E la donna che promuove in A1 poteva andare a salvare. Vediamola però. Ora, questo è un blunder ciclopico. Perché sbarrucca il vescovo. Sbarrucca la torre. Attenzione, sembra che abbia vinto. Sbarrucco. E qua dice, vabbè, adesso cosa succede? Torre di 3 salva la partita. Ma la torre di 3 non salva la partita, purtroppo. Per Nakamura. Perché c'è lo sbarruccamento del pedone. Adesso due pedoni passati. È un vescovo con un pedone in settima, in seconda. E' finita la partita. E' finita la partita. E quindi che succede qua? Nakamura decide di spingere perché dice, io vado a donna. In due mosse vado a donna. Carol Mio Neiman. Ah sì? Donna. E guardate adesso il problema qual è. Quindi Nakamura ha abbandonato. Però qual è il problema? Il problema è che non può fare niente. Questo pedone deve ancora andare a donna. Adesso c'è matto. Nella c'è matto in uno. E quindi la spinta non è più possibile. Ora. Nella stessa posizione qua. Con l'altra torre. Se noi giocassimo la stessa linea. Sbarruccamento. 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 Torre di 3. Questa linea è vantaggiosa per il nero. Secondo il motore. Perché c'è sempre questo. Ok? E allora non bisogna giocare proprio così. Bisogna giocare la spinta. Per andare a donna. Ok? A6. Per andare a donna. Che succede qua? C4. Intermezzo. Attacca la torre. Adesso il berlucco. E adesso il vescovo non cattura più il pedone. Perché questo pedone va a donna. Anche Nima non va a donna. Ma adesso. Facendo donna in A8. Non prende più il matto. E anche sugli scacchi non può fare più niente. Perché comunque la donna torna indietro. Ok? La donna torna indietro. Dice con la torre in F3. La donna non torna indietro. Prendeva addirittura matto. Avete capito? Che roba. La camura per colpa di un torrone per Nigotti ha perso il title Tuesday. E' arrivato secondo. E Niman è arrivato primo. Signori. Clamorosa questa partita. Vediamo. Niman online ormai è lanciato. Se non dal vivo. O quantomeno online. Bene signori. Con questo è tutto. Il video è finito. Mi raccomando like e descrizioni. Ci saranno ancora video su Leviatano. Che sta continuando a trovare novità teoriche su novità teoriche. Sta trovando aperture clamorose. Sta confutando. Sta facendo. Venerdì ci sarà la premiere sul personaggio misterioso. E poi faremo delle cose con Leviatano. Ok? L'ultimo video sembra non aver avuto molto successo. Però le partite del Leviatano sono molto divertenti. Sono clamorose. Ok? Bene signori. Ci vediamo alla prossima.